Solo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia nel 2022 avranno recuperato quanto perso nel 2020, tutte le altre regioni no. A dirlo il presidente della Svimez, Adriano Giannola, nel corso della presentazione del rapporto 2021. Secondo l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, in questo biennio il centro-nord recupererà integralmente il pil perso nel 2020. Il sud invece a fine 2022 avrà da recuperare ancora 1,7 punti percentuali che si sommano ai circa 10 punti persi nella crisi 2008-2013 e non ancora recuperati. E questo benché le perdite durante la pandemia siano state più o meno omogenee in tutta la penisola. Inoltre se consideriamo il periodo tra il 2000 e il 2022, nel centro-nord il pil risulta superiore al valore d'inizio secolo di circa 7 punti, mentre nel mezzogiorno è ancora inferiore di quasi 8 punti. E nemmeno la potenza di fuoco del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà assicurare il riscatto del sud. Nel PNRR infatti la quota di risorse destinate al mezzogiorno è del 40%, ma la sfida sarà spendere soldi in arrivo a sostegno di chi vive e fa impresa al sud. La minore capacità progettuale delle amministrazioni meridionali, secondo Svimez, le espone a un elevato rischio di investimenti mancati, con il paradosso che le realtà maggior fa bisogno potrebbero beneficiare di risorse insufficienti. L'Abruzzo, che secondo la classificazione Istat è una regione del sud, è capofila tra le meridionali, con una ripresa prevista nel 2021 poco sotto il 5% e quasi del 4% nel 2022, arrivando così a sfiorare il valore perso nel 2020. Da un lato il 2020 è stato veramente un anno terribile, nel senso che abbiamo avuto come regione una caduta del prodotto interno lordo di circa l'8,6%, cioè quasi 3 miliardi e per il 2021 si assiste a una buona ripresa in linea di massima, perché è in linea con la media nazionale. Questo dato è portamente sostenuto dal flusso delle esportazioni verso il resto del mondo. L'industria in senso stretto e le costruzioni, che in Abruzzo hanno perso rispettivamente l'11 e l'8%, rappresentano i settori cardine della ripartenza. Soffrono invece le microimprese, che costituiscono l'ossatura dell'economia regionale e i servizi. La pandemia ha accentuato la disoccupazione giovanile e il gender gap. Abbiamo tutta la filiera della ristorazione, del turismo, dell'alberghiero, dei trasporti in forte crisi. Ci sono due figure professionali che ne pagano le conseguenze in maniera considerevole. Da un lato abbiamo la figura ovviamente nota dei giovani, che hanno difficoltà enorme ad entrare nel mercato del lavoro, e dall'altro lato la componente femminile. Questo accade perché nei servizi abbiamo una forte presenza del precariato. Secondo Svimezza, la ripresa economica dovrebbe corrispondere anche un aumento dell'occupazione. Significativo anche il dato del tasso di inclusione, calcolato sulla quota di percettori del reddito di cittadinanza a ogni 1000 abitanti. Dal 40% del 2019 è salito al 52% nella 2020, con una crescita di 12 punti percentuali, ma comunque inferiore alla tendenza media del resto d'Italia.